E' un'occasione importante per fare in modo che quelle ricchezze che stanno dentro l'università non vadano perse. Questa è la mission di STC, la mission che ci siamo posti. L'università e Unicusano ha dimostrato questa capacità, contiene sapere, contiene delle potenzialità che portate nell'azienda privata possono trasformarsi in cinetica. Quindi la capacità davvero è prendere quella potenzialità che sta all'interno dell'università e trasformare in cinetica. Quindi ringraziamo la lungimiranza di Unicusano per aver creato questo momento di unione tra il mondo del sapere e il mondo del fare, cioè il mondo dell'università e il mondo dell'impresa. Questa è la grande forza di questo progetto. Direi che c'è anche un terzo ingrediente molto importante, cioè la ricerca. Beh, sicuramente quel sapere è sicuramente profondo e importante se raggiunto con un elemento vitale che è appunto la ricerca. Unicusano si è attrezzata appunto negli anni per investire in ricerca e sono convinto che già nel 2018 e ancora di più negli anni a venire Unicusano sarà protagonista nella ricerca, nel sapere ma soprattutto nel fare con le imprese italiane e con le imprese mi auguro anche lombarde.